Siamo con Manuel Costantin, armatore di Scandalo, oggi fantastica vittoria nell'ultima regata ai mondiali di Atene. Allora, sono molto contento di questo overall che mi ripaga di tutta la settimana di regate non proprio eccezionali. L'unico rimpianto è che abbia vinto Sagola, invece dell'equipaggio Wave Sailing Team che sarebbe meritata alla stragrande. Quindi faccio tanti auguri all'equipaggio di Maurizio Michelin e di Scandalo Bianco che sono bravissimi.